Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, se questa è la prima volta che guardo i miei video, ciao, io mi chiamo Emma e questo è il mio canale. Erano due anni che non registravo un video e sono ancora emozionata come la prima volta. Infatti se mi vedete sono molto impacciata, però comunque ho voluto riprendere. Oggi vi faccio vedere la ricetta di un risotto che a me è piaciuto molto. Io amo i risotti in qualsiasi modo, con la frutta, la verdura, carne e pesce. Io amo i risotti. Vi lascio la ricetta e ci vediamo dopo. Ciao! Gli ingredienti per questa ricetta sono mezzo porro, asparagi, ovviamente il riso, un bicchierino di vino, un pochino di menta e qualche gamberetto o gambero. Vediamo subito il procedimento. Allora, per prima cosa, tritiamo un pochino il porro. Allora, a questo punto, adesso che non mi si vede la faccia, non ci sono. Teniamo gli asparagi, eliminiamo la parte più coreacea. Allora, la parte rimanente togliamo la punta, la teniamo da parte, la facciamo sbollentare giusto alla fine. Il gambo lo cuociamo a parte, con un po' di porro, per questo li ho divisi in due. E dopo li frulliamo. Ah, mettiamo tutto dentro un pentolino. Io uso questo, giusto perché non ho tanto prezzo a casa. Adesso sto per fare una cosa che molti, moltissimi non approveranno. Allora, siamo in quarantena e io non esco per comprare sedano, carota e cipolle. E allora, si va di dado, io direi te lo so, ma se voi avete sedano, carota e cipolla, calda, fatelo ovunque, ovviamente. Allora, a questo punto, che i gambi degli asparagi stanno già bollendo, mettiamo un filo d'olio in padella e facciamo imbiondire il porro. Allora, adesso che il porro è imbiondito, facciamo tostare il riso. Il chicco, cioè il riso, è ben tostato quando il chicco è trasparente col centro bianco. A quel punto è ben tostato. A questo punto, alziamo la fiamma e il vino. Il vino deve evaporare bene prima di aggiungere il brodo, altrimenti il risotto saprà tutto divino. Abbassiamo di nuovo la fiamma e iniziamo ad aggiungere il brodo, fino a coprire il riso. Ok, lasciamo cuocere a fiamma bassa. Allora, a questo punto, che i gambi degli asparagi sono pronti, io ho lasciato un pochino d'acqua, perché altrimenti non riuscirei a frullare niente. Allora, mettiamo un pochino di menta. Io sinceramente amo la menta, mi piace un sacco. Allora, ovviamente, questo qui lo aggiungeremo a metà cottura, così da poterci regolare in caso ci fosse troppo liquido, possiamo farlo restringere. Se invece lo mettessimo a fine cottura e il liquido sarebbe troppo, il riso scuocerebbe nel frattempo che assorbe l'acqua. Adesso che siamo a metà cottura, aggiungiamo il nostro composto. Allora, io a 5 minuti più o meno dalla fine, ho tuffato le punte degli asparagi dentro il brodo e aggiunto i gamberi al riso. Allora, io ho tolto il riso dal fuoco, perché ovviamente è cotto. Se voi volete e vi piace, potete mantecarlo con del burro freddo dal frigo, da renderlo più lucido. Io non lo gradisco. Impiattiamo. Allora, la ricetta è finita. Io l'ho impiattato in modo semplice, come il mio solito. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se è così, lasciatemi tanti pollicini in su e seguitemi. Io spero di continuare a fare video, però ci proverò, voglio essere più costante. Voglio continuare a far crescere questo mio canale. Niente, ci vediamo la prossima volta. Ciao!